La legge regionale intende rafforzare l'assistenza territoriale. La Regione Lombardia ha una sanità d'eccellenza negli ospedali, testimoniata da ricerche e riviste internazionali di grande prestigio. Ha la necessità di rafforzare la sanità territoriale, come attraverso strutture dedicate. Nella nostra riforma sono previste 216 nuove case della comunità e 60 ospedali di comunità. Le case della comunità sono dei luoghi nei quali i medici di medicina generale lavoreranno insieme agli specialisti, insieme agli infermieri di famiglia, insieme a figure anche socio-assistenziali come psicologi, ma anche figure come osvetriche. Quindi un'equipe medica che utilizzerà anche una telemedicina per televisite, teleconsulti, teleoperazione, telemonitoraggio. Saranno quindi un punto di raccordo tra l'ospedale e la casa. L'idea quindi è proprio che ci sia una presa in carico della persona, che ci sia una continuità assistenziale, quindi quando una persona viene dimessa dall'ospedale attraverso anche queste case della comunità, avrà la possibilità di continuare a essere seguita e quando una persona fragile è a casa e ha bisogno di un'assistenza un pochino più forte prima dell'ospedale, ci saranno queste case della comunità. Grazie. La campagna vaccinale come sta procedendo invece? La Regione Lombardia questa settimana raggiungerà 15 milioni di somministrazioni. Siamo come territori, ci paragoniamo, siamo secondi solo a Israele, Spagna, Portogallo e Danimarca. Abbiamo un'adesione alla campagna vaccinale del 89%, quindi sicuramente una campagna vaccinale che sta proseguendo in maniera molto positiva. Abbiamo un'ottima risposta dei giovani, i ventenni hanno dato una risposta straordinaria. Siamo partiti con le dosi ai più fragili. È stata una partenza un pochino lenta e quindi il mio appello ai fragili, quindi alle persone dializzate o alle persone che hanno immunodepressioni, quindi alle persone che hanno delle fragilità forti, è quella di accedere alla terza dose. Mi auguro e spero anche che i medici di famiglia, i medici di medicina generale, chiamino i loro assistiti per questa terza dose che è sicuramente importante per prevenire in persone che hanno questa fragilità rischi di ospedalizzazione che possono per loro essere pericolosi.